Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. Da venerdì 16 a domenica 18 settembre torna in Valle del Luglio la settima edizione della mostra agrozootecnica presso l'Abbazia di Albino. Riflettori puntati sull'agricoltura e la zootecnia di montagna con mostre di animali, musica, cucina tipica, aria bimbi, collaboratori e giochi. Dopo il grande successo delle scorse edizioni la transumanza torna a Schilpario dal 16 al 18 settembre. L'evento, programmato in concomitanza con la discesa degli animali dagli alpeggi, vuole celebrare l'antico riconto della transumanza ed offre la possibilità di vivere un'esperienza strettamente connessa con i ritmi della natura all'insegna del folclore e della passione degli allevatori della valle. Presso la chiesa parrocchiale San Bernardino di Semonte a Vertova, sabato 17 settembre alle ore 20.45, si terrà la sesta edizione del tradizionale e apprezzato concerto d'organo. Il protagonista di quest'anno è l'organista italiano Matteo Cotti, torinese, il quale vi accompagnerà con brani e melodie lungo una linea temporale progressiva che attraversa il XIX secolo per approdare al primo novecento in un passaggio dal barocco al romanticismo. Sabato 17 settembre a Castione della Presolana, Visit Presolana organizza presso l'Osservatorio Astronomico di Lantana una serata dedicata al riconoscimento delle costellazioni e principalmente al pianeta Saturno, a cura del gruppo astrofili di Cinisello Balsamo. L'evento inizierà alle ore 21.30. Quarto appuntamento, domenica 18 settembre, con la rassegna culturale Serio Art, Acqua Preziosa Acqua. Tappa a Cerete con Cerete Ecotracks in musica. Visita guidata al Parco dei Molini con il contributo musicale di Mauro Ghilardini, accompagnato da Francesco Maffeis al pianoforte e da Giorgio Sala alla chitarra. Ritrovo, ore 15.30, presso il parcheggio di Via Sorgente Moia, concerto alle ore 17.00. Continuano gli appuntamenti con la rassegna nel cuore della montagna con Davide Sapienza. Domenica 18 settembre, alle ore 14, Aleffe e Apeia, con il tema I Crinali e la Via del Lino, tra Val Seriana e Val Cavallina. Difficoltà percorso, facile. Domenica 18 settembre, la CS Colzatese organizza la ventunesima camminata non competitiva dedicata a San Maurizio. Ampia scelta di percorsi caratteristici che attraversano centri storici, pista ciclopedonale, mulattiere, sentieri e il santuario di San Patrizio. Passiamo ora all'appuntamento per scoprire le ricchezze naturalistiche, artistiche culturali ed enogastronomiche della Val Seriana e della Val di Scalve. Domenica 18 settembre, mi aspetta un percorso in e-bike partendo dal centro sportivo di Piario, passando per Arlesio fino ad arrivare a Gandellino. Visita al campo dello Zafferano, salita a Tezzi Alti per aperitivo e pranzo e visita all'azienda agricola Ronchello con ottimi assaggi di miele e formaggi. Ritrovo ore 9 presso il centro sportivo di Piario. Prenotazioni sul sito www.valseriana.eu sezione esperienze. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 035 70 40 63. Per chi non usufruisce del servizio di prenotazione online è possibile pagare anticipatamente la visita presso un infopoint Val Seriana e Val di Scalve a Ponte Nossa due giorni prima dell'uscita. Per questo appuntamento è tutto, vi ricordiamo che potete trovare maggiori informazioni su tutti gli eventi della settimana in Val Seriana e in Val di Scalve sul portale www.valseriana.eu e prenotare le vostre esperienze direttamente dalla piattaforma online. Arrivederci e buona serata!